Oggi voglio, ventotto settimane, fu già a travaglio la corsa in ospedale lo sconfillo dovrò da nascere e la via intensiva ma grazie a Dio quell'angelo era viva la spina rindo coro che vognava un campanato non è la nonna era per me perché ha preghiere in altra volta che dopo un'altra donata e non corriva a me parte ma c'è un esempio che rote che nell'attusiamo scoprì e trovi scritti e la grazia ricevuta sotto la salute si raccontava che dentro ai sogni una donna che appariva sento a chi che avrebbe camminato a due sette anni avrà compiuto non è la nonna non è la nonna era per me perché ha preghiere in altra volta non è la nonna non è la nonna e non corriva a me parte a gente sempre gruta che nell'attusiamo scoprì e trovi scritti in taloputo e l'umidà che l'abbiamo è la grazia ricevuta ma l'abbiamo la grazia ricevuta ma l'abbiamo non è la nonna 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 perché ha preghiato molto e quando uno può creare chiede chiede e poi si va bene il creatore la promessa è la maggioranza sette anni per me per me la camminata per me la camminata viva Maria